Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti Eccomi finalmente tornata con un nuovo video, sono stata in edicola e se avrete visto l'altro video sicuramente dove avevo la stessa maglietta quindi la stessa magliettina di Hello Kitty che avevo acquistato da Zara Sono qui di nuovo perché appunto sono stata in edicola e ho trovato delle cosine di Hello Kitty che ovviamente volevo assolutamente prendere e aprire con voi Eccoli qui, abbiamo tre pacchettini da aprire, quindi non ci resta che vedere che cosa ho trovato all'interno delle scatolette dopo la sigla Ok ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video unboxing, dai Allora, buste sorpresa di Hello Kitty o comunque scatoline sorpresa di Hello Kitty Eccole qua, una, due e tre Ok Praticamente qui dentro troviamo degli squishy plush Quindi sono dei pupazzettini di Hello Kitty e se ne possono trovare di ogni genere Vedete, qui si vede soltanto una parte E poi abbiamo le figure che rappresentano appunto le nostre Hello Kitty Ne ho prese tre, ne ho trovate tre e quindi non vedo l'ora di vedere quali Hello Kitty abbiamo trovato Questi qui sono dell'azienda Sbabam Sì, vedete queste qua Che io adoro, avevo già preso delle cosine in edicola di questa ditta E quindi sono super super curiosa di vedere che Hello Kitty troviamo Anche perché io sono una super Kitty addicted Assolutamente Da, sin da ragazzina Ero proprio ragazzina Quando mi piaceva Hello Kitty ero fuori completamente di testa per Hello Kitty Compravo qualsiasi, qualsiasi cosa Poi mi è passata un po' la scimmia, insomma Di comprare tutto di Hello Kitty Però comunque ogni tanto quando vedo qualcosa di Hello Kitty Proprio più forte di me Ce le ho nel cuore Quindi devo assolutamente comprarle Le ho pagate 6,99€ l'una alla faccia Bene E quindi niente, adesso vediamo che cosa abbiamo trovato Ma, prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E soprattutto di attivare la campanellina Così ogni volta sarete sempre avvisati dei nuovi video che usciranno E soprattutto vi ricordo di seguirmi anche sui social In particolar modo su Instagram Io vi lascio scritto qua, mi trovate come Orsotopatto88 Lì sono un pochino più attiva e magari vi faccio vedere cose che qui non porto Quindi ci tengo veramente tantissimo Che mi seguiate anche sull'altro social Mi raccomando Allora Le gioie della Ale saranno infinite? O saranno che... Non lo so Arriveranno? Non arriveranno? Non lo sappiamo Qui abbiamo una scatolina rosa Una scatolina azzurra E una scatolina rossa Io direi di partire con l'azzurra Dai Ok Allora Io direi di aprire il sacchettino Ci sono veramente Se ne possono trovare di ogni Veramente Adesso vediamo quale personaggio di Hello Kitty abbiamo trovato Quindi è travestita da qualcosa E vediamo subito Da che cosa 6,90 euro Comunque è una sassata Però Devo dire la verità Che ci regala gioia Perché se fossero tipo portachiavi O comunque ci potrei aggiungere un gancino Da poter mettere alle chiavi E aggiungiamo portachiavi alle chiavi della Ale Sì esatto Oh ma che carino Come è morbido Ma è anche profumato Oh ma che carino Sono commossa 6,99 euro spesi bene L'Ale e le gioie sono finalmente arrivate Allora non fateci caso Non sono in bolla oggi Allora Intanto all'interno troviamo uno stickers Eccolo qua Di Hello Kitty Che questo qua va a finire in agenda E abbiamo trovato Hello Kitty sirena Sirena Allora è uno squishy praticamente Eccolo qua Ma quanto è bella ragazzi Non potete capire Guardate quanto è carina Hello Kitty Guardate Vestita da sirena C'è anche la coda Ma io la amo La amo Cioè Ma quanto è carina Allora Ah che carina Qua c'è da attaccare Allo stickers Praticamente E qui c'è da colorare Ci sono anche dei giochini Ma che bella Raga mi sarebbe piaciuto Trovare l'unicorno In realtà Guardate che carino Hello Kitty vestita da unicorno Muoio Invece ho trovato la sirena Adesso vediamo che cosa troviamo di altro Prendiamo la rosa Scatoletta rosa Che qua si vede già praticamente Io le ho scelte un po' così a caso In realtà le ho scelte in base al colore fuori Niente di più Non ho voluta prendere una rosa e una rossa E poi quella azzurra Comunque apriamo la rosa Ma quanto sono carine ragazzi Ma cioè Ma stiamo scherzando Ma sono meravigliose Soldi spesi bene Ali Complimenti Brava Oh che carina Chi è lei Chi è questa Allora aspettate Troviamo un altro stickers Questa volta con Hello Kitty differente Troviamo Hello Kitty principessa Non fateci Ma che carina la corona Guardate che carina C'è anche il mantello Ma no ma raga Ma sono bellissime Anche questa profuma da matti Ma quanto è carina Non ci credo Quindi abbiamo trovato Hello Kitty principessa E Hello Kitty sirena Eccole qua No raga devo andarmi a comprare le altre Cioè non potete capire Io devo trovare l'unicorno adesso Allora Apriamo l'ultima Vediamo se ci regala gioie Allora la rossa Non ci credo Ma io voglio Hello Kitty Quella con l'unicorno Sto anche rompendo la scatola Sto anche rompendo la scatola E qua troviamo Allora intanto Lo stickers Anche qui Uguale a quello di prima Questo Direi di sì Vediamo Ah no è diverso Questa è quella classica Ah ma raga Ma io non ci sono proprio Allora infatti La prima abbiamo trovato Hello Kitty sirena E anche qui c'è lo stickers sirena Qui abbiamo trovato prima La Hello Kitty principessa E ora troviamo Hello Kitty classica Quindi vuol dire che Questa qui è Hello Kitty classica Hello Kitty classic Ma che carina Vestita di rosso Oh Anche questa Super profumosa E super squishy Io sto adorando Cioè Hello Kitty Me le metterei anche attaccate Alla maglia Hello Kitty Cioè proprio in 3D no Da avere sulle spa No vabbè raga Non fateci caso Ma quanto sono carine Cioè ma io sono Sono estremamente Ammaliata Devo assolutamente Trovare le altre Almeno devo comprarmi L'unicorno Se lo trovo Perché Forse poi Si poteva tranquillamente Vedere Vi dirò la verità Però Sarebbe carina Hello Kitty Hello Kitty Capuccetto rosso Per me è fantastica Hello Kitty Koala Meraviglioso Guardate che carino E poi Hello Kitty Unicorno Io voglio questo Ma stiamo scherzando Io voglio Hello Kitty Unicorno Quindi questa sarà La mia prossima missione Di comprare E trovare Altri squishy Di Hello Kitty Le gioie Le gioie Sono finalmente Arrivate Sono tutte e tre Meravigliose Meravigliose Io Veramente Finalmente Sono riuscita a fare il video Perché avevo tutto in un sacchetto Sono andata appunto all'edicola Ho messo poi tutto nel sacchetto E non ho più tirato fuori nulla Ho un sacco di bustine sorpresa Ancora da aprire Per quanto riguarda La Disney E le principesse Quindi ragazze Mi raccomando Sintonizzate Che vedrete anche il resto Quindi Con Hello Kitty Io ragazze Vi saluto Fatevi sapere Con un commentino qui sotto Qual è La vostra preferita Se anche voi Le avete trovata in edicola Io le adoro Noi ragazzi Ci vediamo prossimamente Con nuovi video Vi mando Tanti super mega bacioni E ci vediamo alla prossima Ciao